Gentili telespettatori, buona giornata. Nel libro di Di Maio, il suo primo e forse l'ultimo libro, fa una gaff tremenda, tremenda. Ma attenzione, con molta probabilità e quasi sicuro, quasi certo, quasi matematico, che il libro non l'abbia scritto lui, ci sono, come vi ho dicevo, i ghostwriter, gli scrittori fantasma. Che cosa fa la casa editrice, oppure uno li può anche contrattare autonomamente, chiama queste persone che come lavoro ti scrivono il libro. Tu gli racconti, parli, loro registrano, poi tornano nell'ufficio dove lavorano e con la registrazione tirano giù un libro. Quindi tu non è che materialmente ti metti col computer, allora cominciamo, mi chiamo Di Maio, virgola, sono nato, virgola. No, non crediate che realmente lui si sia messo a scrivere il libro, pensate un po'. Probabilmente, quasi certamente, ci sono questi scrittori fantasma che ti scrivono il libro in modo che non ci siano errori, te lo mettono giù bene e c'è un errore clamoroso. Probabilmente l'errore è dello scrittore del libro, che non è Di Maio, ma può essere anche che Di Maio gli abbia dato un nome diverso da quello reale. Perché nel suo libro Di Maio scambia John Bolton, consigliere del Presidente degli Stati Uniti, con Michael Bolton, cantautore. Quindi un ennesimo strafalcione di Di Maio. Così col suo nuovo libro, un amore chiamato politica, che io avrei chiamato un amore chiamato poltrona o un amore chiamato 18.000, che sono gli euro che prende al mese, ha incrementato la sua personalissima raccolta di strafalcioni gaff. Così il ministro, quello che aveva abolito la povertà, ma aveva abolito la povertà, come abbiamo visto in un video l'altro giorno, di molti grillini politici che, secondo una ricerca giornalistica del giornale, se non sbaglio, o di Libero, non mi ricordo quale dei due, ha visto che molti grillini nel 2017, l'anno prima di essere eletti. Dichiaravano zero, ma zero non è un modo di dire, eh? Zero! Cioè erano persone che non guadagnavano in un anno neanche un euro. E poi c'erano avvocati che in un anno avevano fatto parcelle, uno per 63 euro e l'altra per 263 euro. E allora mi viene il sospetto. Ma questi con le parcelle da 60 o 200 euro non è che lavoravano in nero? E quelli con reddito zero non è che lavoravano in nero? E poi erano... vivevano in zone d'Italia dove la disoccupazione è altissima e c'è molto lavoro nero. Quindi quelli che avevano zero di entrate o facevano fatture da 63 euro all'anno, mi viene un leggerissimo sospetto. Perché attenzione, non è solo il datore di lavoro che non è onesto a contrattare in nero, ma anche la persona che si fa assumere in nero è comparabile al datore di lavoro. Non solo il datore di lavoro, ma anche la persona che lavora in nero sono complici di un lavoro illegale. Pertanto vi ricordate onestà, onestà, ma quale onestà? Così a 24 ore dalla firma della via della seta partì alla volta di Washington, scrive Giggino Di Maio, il grande, la mia prima visita ufficiale negli States. Arrivei alla Casa Bianca in veste di ministro dello sviluppo economico e un po' mi sorprese. Era assai più piccola di come me la immaginavo. Mi accolse Michael Bolton, consigliere per la sicurezza del presidente, scrive Giggino, come riportato da Dagospia. Di Maio si sarebbe dovuto sorprendere di più, perché ad accoglierlo era arrivato l'autore di... non un cantante, ecco, più che per le dimensioni della Casa Bianca. Infatti il consigliere del presidente era John Bolton e non aveva mai cantato in vita sua. Una svista incredibile che è passata intatta di revisioni in revisione per arrivare sugli scaffali delle librerie. Resta da capire se Di Maio ha avuto la fortuna di assistere anche a un concerto privato del cantautore, perché nel libro non lo specifica o bisogna aspettare. Il prossimo, avanti il prossimo, ricordate nel 2018 come aveva chiamato il presidente cinese, l'aveva chiamato semplicemente Ping, Xi Jinping, lui amichevolmente lo aveva chiamato Ping, no? Beh, una svista, un errore direbbe qualcuno, povero Giggino, come siamo così, eh? Irrispettosi verso il potente ministro degli esteri. Beh, non va dimenticato anche come ha chiamato Ross Pompeo, il politico repubblicano Mike Pompeo è diventato Ross Pompeo. Forse Ross per il telefilm, vi ricordate quel telefilm dove c'erano quei ragazzi sempre sul divano, in un bar, che vivevano insieme e c'era uno di loro che si chiamava Ross. Quindi forse Mike è diventato Ross, chi lo sa? Forse stava pensando a quel telefilm. Beh, così, a parte i nomi, quando ha associato il dittatore cileno Augusto Pinochet al Venezuela, che non c'entrava niente, o nel 2019, quando cercò di appianare una crisi diplomatica tra Italia e Francia, disse di considerare il paese transalpino come un punto di riferimento per la sua tradizione democratica millenaria. Quindi in Francia la democrazia c'è da millenni. Peccato che la Francia fino al 1789 fosse una monarchia nelle mani di Luigi XVI, di Maria Antonietta e le brioche, vi ricordate, no? Beh, è così. Quindi, ma era semplice questa, bastava guardare il cartone animato Lady Oscar, sei proprio nascosta nella grande stanza del re. Ve lo ricordate? Lady 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 Oscar. Vabbè, ma poi ce ne sono tante altre gaff geografiche di Gigino Di Maio o Grande, no? Dalle parti di Matera, non so dove aveva visto Matera in un'altra regione, è una roba del genere, dalle parti di Matera. Però, vabbè, è Gigino, su, è un politico nuovo adesso, ha rinnegato di aver sconfitto la povertà, dice ho fatto un errore. Arrivederci a tutti e grazie.